Il tipico bravo ragazzo usa spesso il condizionale, il ma ti va se andiamo lì, ti va se ci sediamo qui, ti va se ci scambiamo il numero, potremmo andare, tutte queste robe qua, ok? Oppure anche tipicamente esce dalle interazioni con le ragazze dicendo buona giornata, anche se è stato rifiutato. Ora, non è che è sbagliato, poi non cambia niente, se ti ha rifiutato tanto è finita lo stesso l'interazione ma ha maggior ragione, non farlo, non dire alla ragazza buona giornata se ti ha rifiutato perché vai a rinforzare tratti tipici del bravo ragazzo, che non significa essere sgarbato, non è che devi insultarla, ma se ti ha rifiutato ti giri e te ne vai, fine. Stufo di vedere altri ragazzi trattare male le donne e riuscire a scoparsele mentre tu invece che le tratti bene viene rifiutato? Stai per scoprire la formula in nove passi per avere più successo del ragazzo stronzo che la tratta male, anche se vieni considerato un bravo ragazzo e vieni spesso parcheggiato in zona amicizia. Tutto questo nel videocorso da bravo ragazzo a scopatore seriale, acquistabile in sconto al 65% in meno fino all'8 febbraio, poi aumenterà di prezzo. Clicca sul primo link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni. Poi in quella si entra in altri discorsi sulla paura del rifiuto, su come togliere la paura del rifiuto, per esempio puoi uscire dalle interazioni facendo una battuta, in modo del tuo cervello poco per volta. Cancella dalla tua testa la paura del rifiuto e registra che stai uscendo all'interazione, che sei divertito e quindi non registra il rifiuto, registra che ti stai divertendo e quindi poi la paura del rifiuto sparisce. Non è questo l'argomento del corso. E poi tu puoi dire buona giornata a fine di un'interazione di cui hai preso il numero di un appuntamento, buon rientro, buon... Non lo so, ci sentiamo, ci vediamo, ma se l'interazione è stata fatta, bene, sei preso il numero. Se l'interazione è finita con un rifiuto o con un nulla di fatto, non dire buona giornata. Vai soltanto a rinforzare la sindrome del bravo ragazzo. Poi, altro tratto tipico del bravo ragazzo è che è sempre l'ultimo lasciare l'interazione. Quindi questo sia che sia situazioni da ciro del corso sociale, sia che sia situazioni di approccio a freddo, di giorno, in discoteca o quello che è, o anche di appuntamento, il bravo ragazzo è sempre quello che lascia per ultimo l'interazione. Ora, non è che per forza un problema, però io mi ricordo delle volte appuntamenti che facevo dove magari la ragazza faceva un appuntamento di pomeriggio, delle volte, e la ragazza quindi si fa un appuntamento di pomeriggio, ha sempre poi degli altri impegni dopo, mi capitava di fare il bravo ragazzo e di accompagnarla fino al punto della città dove doveva andare. Mi ricordo che una volta, porca, però ho fatto una passeggiata, ma neanche passeggiata, secondo me era anche pieno di fretta perché doveva essere in un posto a un certo orario, e per chi sa come è fatta a Milano, era l'appuntamento dove c'eravamo in Duomo, e doveva arrivare fino alla zona dei Navigli, che sono 3-4 km a piedi all'incirca, e io sono andato con lei a piedi fino ai Navigli perché doveva trovarsi lì poi con degli amici, e ci siamo andati praticamente camminando veloce, quindi anche in passeggiata, quindi uno, non è stato per niente piacevole, due, non ha alcun senso, per quanto che camminando così veloce non c'è modo di avere una conversazione decente, di contatto visivo, contatto fisico, creare trazione, non c'è la possibilità, se dovete camminare velocemente, e due, cosa speravo di fare, quindi non ha alcun senso, perché se ci ho fatto qualcosa con la ragazza, ha senso accompagnarla per un pezzettino, non so, magari deve prendere la metro, a un certo punto, siete lì già in zoo, scendi giù un attimo con lei, magari delle volte scendevo fino alla banchina della metro, per chi vive in città con la metro, se deve prendere un mezzo pubblico, non so, la accompagniamo fino alla fermata, scendevo giù fino alla metro, però se non era necessario non passavo neanche i tornelli dove devi passare il biglietto, mi fermavo prima, oppure delle volte invece scendevo fino a giù, perché magari al bacio, se c'era un retro al sesso, dipende, però stiamo andando in discorsi che c'entrano relativamente, delle volte magari scendevo giù sulla banchina della metro, perché potevo fare il bacio, ed era l'ultimo momento in cui potevo fare il bacio, e ci arrivavo lì alla fine, al bacio, però a maggior parte di volte accompagnarla così tanto eccessivamente, andare proprio in una direzione opposta dove devi fare un milardo di chilometri di strada, insensati, non ha senso, che cosa pensi di farlo? Lo fai perché pensi, anzi, magari perché anche pensi che sia sgarbato il non accompagnarla, uno, non è così, due, devi avere quella forza interiore di dare anche priorità alla tua vita, che sarà uno dei principi che vedremo tra poco, il fatto di focalizzarti su te stesso, cioè se vai ad allungarti la strada di 500 mila chilometri, cioè dopo poi vai anche a danneggiare magari impegni che avevi, cose che dovevi fare, o comunque ti rendi, diciamo, la cosa non confortevole di tornare indietro, devi farti altri 4 chilometri per tornare indietro perché non sei stato capace di dire tra virgolette un no, che non era dire un no, era dire, ok, tu scendi qua e io torno a, che so, ti inventi che devi tornare a fare qualcosa, ok? Non lo so, però il concetto è che il bravo ragazzo tipico è sempre l'ultimo a lasciare l'interazione, quindi vai via per primo con del buon senso, cioè se è un'interazione, 2 a 10, 15 minuti, ok, lì non è che c'è chi va via per primo, e anche se è bene non mettersi in una condizione in cui la ragazza che ti dice ah, dovrei andare, sapete che devi capire la situazione logistica e a un certo punto staccare te, perché sapevi già che lei doveva andare, comunque. E più che altro parlo di interazioni lunghe, di appuntamenti, ok? Poi un altro tratto tipico del bravo ragazzo è il fatto che pensa di disturbare la ragazza, barra, le ragazze quando approccia, e il problema non è soltanto che lo pensa, comunque quello è un problema, ma il problema ulteriore è che lo dice anche ah, spero di non disturbare, scusa se ti disturbo, anche via messaggio. Ma secondo te, prova a ragionarci freddamente, ma secondo te è una cosa che aiuta o che peggio la situazione? Evidentemente se lo continui a fare, perché da qualche parte nel tuo inconscio, credi che sia giusta come cosa? No, non si fa, non si fa, è anche sintomo di bassa autostima, ci si può andare a lavorare sull'autostima, è perché ti dici spero di non disturbare, perché ti vedi a un livello così basso, ti vedi così poco, così di basso valore, che spero che non ti sto derubando del tuo tempo. Non farlo, non dirlo, ok? Vai a lavorare sulla tua autostima, vedremo alcune cose in questo corso, ti aiuteranno anche per la parte dell'autostima, abbiamo un corso apposito anche per la parte dell'autostima, che si chiama Mentalità Alfa, ma quantomeno sforzati di non dire, ah, scusa, non voglio disturbarti, spero di non disturbarti, scusa se ti disturbo, tutte queste varie cose qua, cioè, fanno veramente asciugare la figa della ragazza, ma non è che, cioè, di base, se ti approcci in questo modo, non è che li fanno asciugare, cioè che non aveva il minimo interesse e ancora peggio dopo che diceva una roba di questo tipo, ok? Quindi, questi varie tre, i vari, c'è, tra virgolette sintomi per andare a riconoscerti, quindi come è andata? Fai un check, magari se te li sei iscritti, se li è numerati, o anche comunque a occhio, più ce ne sono, più ti sei riconosciuto in questi sintomi qua, più devi andare a lavorare, porre attenzione a quello che vedremo adesso e darti da fare con il migliorare con le ragazze. Stufo di vedere altri ragazzi trattare male le donne e riuscire a scoparsele, mentre tu invece, che le tratti bene, vieni rifiutato? Stai per scoprire la formula in nove passi per avere più successo del ragazzo stronzo che la tratta male, anche se vieni considerato un bravo ragazzo e vieni spesso parcheggiato in zona amicizia. Tutto questo nel videocorso da bravo ragazzo a scopatore seriale, acquistabile in sconto al 65% in meno fino all'8 febbraio, poi aumenterà di prezzo. Clicca sul primo link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni.